Fini di settimana di festa in occasione di due eventi in particolare e molto importanti per la famiglia religiosa di Don Orione, appunto l'anniversario della canonizzazione e il centenario della fondazione della piccola opera missionaria della Carità, la quale le Suori di Casa Serena fanno parte. Il programma inizierà nella giornata di sabato? Il programma inizierà sabato alle 18 con la messa al Gentili, al Don Bosco e proseguirà appunto domenica con la marcia. Per quanto riguarda la giornata di domenica, a che ora sarà l'appuntamento? L'appuntamento sarà alle 10, alle 10 inizierà la marcia con un discorso del parroco di Bellocchi, Don Giuseppe, poi inizierà appunto alle 10 la marcia per le vie di Bellocchi per un percorso di circa 3 chilometri. Una marcia che comprende varie persone e varie associazioni? Assolutamente sì, ovviamente in primis le ragazze di Casa Serena, poi i volontari ovviamente, altre associazioni vicine appunto all'handicap diciamo che sono l'Unitalsi e tante altre. Se qualcuno volesse partecipare fa ancora in tempo? Allora le iscrizioni erano fino al 10 di maggio e abbiamo raggiunto già il limite di 250 iscritti e questo è un ottimo risultato, però ovviamente chiunque vuole partecipare è ben accetto. Il ricavato invece? Il ricavato andrà interamente devoluto in beneficenza ovviamente alle opere di Casa Serena. Grazie. Grazie.